Io sono della provincia di Rovigo, un paesetto che si chiama Riano Nelpolese, dove c'era una frazione a Crociara, c'era il maestro fuori, con il camice bianco, ho detto io quasi quasi le chiedo perché non andavo più a scuola, ho fatto la quinta elementare e mio padre mi ha detto o ti trovi un lavoro, visto che non vuoi più andare a scuola e trovati un lavoro. E allora ho detto ma chiedo al maestro, e con il successo ho detto maestro scusi avrei intenzione di fare il barbiere, cosa dice lei? Attilio dice entra pure e dai una scopata per terra, è il mio primo lavoro. Barbiere con orgoglio da quando aveva dieci anni e mezzo, dal 1958 ha sempre lavorato, ora è il premio fedele al lavoro della Camera di Commercio di Torino. E poi dal 73 ho preso io questo negozio che io ero già qui come dipendente. Il barbiere ha visto cambiare tanto l'atteggiamento degli uomini. Diciamo che una volta si faceva i capelli ogni due mesi, diciamo così, adesso invece ogni 15 giorni, spettamente i giovani con questi tagli a pelle, tagli molto corti eccetera così, e quindi diciamo che poi si vede che l'uomo si cura molto ma molto di più. La barba modellata, che noi siamo modestamente fortissimi, squadrate, non squadrate, rotonde, alla perfezione proprio. Quindi la clientela viene una volta e poi viene sempre, questo è importante. Guardandosi intorno vede le soddisfazioni più grandi. La mia soddisfazione più grande è che ho creato tanti posti di lavoro, mio figlio è diventato un grande parrucchiero, uno dei più grandi parrucchieri del mondo e quindi di più non è che si può chiedere. Giusto? Giusto.